Inizierà a breve l'attività del campo di addestramento per cani da ricerca del comitato di rosetto della Croce Rossa a Silvi in via Polacchi in un'area che è stata appositamente destinata e che è stata inaugurata sabato scorso alla presenza di volontari e istituzioni. Il centro sarà utile a preparare all'azione cani che saranno impiegati in casi di emergenza e calamità naturali, un servizio di grande utilità non solo per la Croce Rossa che la promuove ma anche per le forze di polizia che possono dotarsi di unità cinofile di affidamento pronte all'intervento in caso di urgenza. La soddisfazione dei coordinatori dell'iniziativa e dell'amministrazione comunale di Silvi. Siamo riusciti veramente ad aprire questo gioiello che sarà veramente un ferrocchiello anche per tutta la regione e anche a livello nazionale che sarà appunto oltre a Croce Rossa potranno anche dirire anche le forze dell'ordine per quanto riguarda tutte le loro unità cinofile, per quanto riguarda polizia, carabinieri e vigili del fuoco e protezione civile dove appunto abbiamo già un protocolo di inchiesa insieme ai vigili del fuoco. Tutto questo va ad offrire ancora di più tutto quello che vuol dire la parte volontariato. Noi siamo Croce Rossa, in primi siamo volontari, diciamo che questa attività la facciamo perché veramente ci crediamo e per di più questa attività la facciamo anche perché diciamo siamo coinvolti sull'area emergenziale per quanto riguarda catastrofi e disastri. Noi ci occupiamo di recupero di spessi in superficie, poi in secondo luogo c'è una seconda squadra, un secondo step che si occupa appunto di recupero persone insepolte da macerie. Partiremo subito e più presto, già a giorni avremo un incontro con il vigili del fuoco e già inizieremo a lavorare a tempi brevi. L'importanza di questa struttura sul territorio di Silvi, soprattutto per tutte le forze di polizia, le associazioni di volontariato cinofile che si adopereranno per il canale da soccorso e da ricerca. L'amministrazione comunale ha dato la disponibilità di questo spazio e siamo felici che la Croce Rossa italiana abbia creato questa struttura e che possa dare il proprio contributo soprattutto nella fase emergenziale perché soprattutto attraverso le associazioni di volontariato si fa sistema e si aiuta la comunità.